Un cordiale saluto a tutti coloro che ci stanno guardando. Come sempre, attenti alle novità del mercato, grazie alla nostra esperienza da oltre 40 anni nel settore della maglieria, oggi vi voglio presentare un nuovo prodotto. Lo abbiamo definito il Mulinetto di Cardano Cecilia. Voglio rivolgermi a tutti coloro che sono appassionati del lavoro ai ferri e forse non hanno mai potuto realizzare il proprio sogno di acquistare una macchina per maglieria. Forse perché è troppo ingombrante, forse perché è troppo costosa. Ebbene, tutto questo oggi lo potete realizzare col Mulinetto di Cardano Cecilia. Facilissimo da usare, poco ingombrante ed a un prezzo veramente accessibile. Ma andiamo a vedere la scheda tecnica del prodotto. Il nuovo Mulinetto di Cardano Cecilia lavora qualsiasi tipo di filato, cotone, lana, seta, ciniglia, dispessore, medio o grande. Viene posizionato su qualsiasi piano di lavoro e fissato con appositi morsetti. Iniziare è semplicissimo. Basta avvolgere il filo intorno agli aghi con un semplice movimento, posizionandolo nell'apposito guida filo. Muovendo la manovella, la corona, composta da 46 aghi, inizia a girare, realizzando così maglia rasata in lavorazione circolare, permettendo di creare sharp, cappelli, cash call, borse e non solo. Con il nuovo Mulinetto di Cardano Cecilia si lavora anche in modo lineare, ottenendo una larghezza fino a 50 cm. Grazie all'apposita leva di selezione, possiamo realizzare teli aperti di varie misure, con tanto di aumenti. E grazie a speciali stopper che vengono posizionati sulla corona degli aghi, possiamo creare anche maglioni, mantelle, coperte e cuscini. E con un po' di creatività si potranno ottenere lavorazioni particolari con ago scartato. Il vostro lavoro sarà inoltre facilitato grazie al display elettronico, che vi permetterà di controllare i giri effettuati dal mulinetto. Avete visto com'è semplice utilizzare il mulinetto? E quante cose belle si possono realizzare? Guardate anche questa sharpa. In un attimo è pronta da indossare. Oltre al libretto istruzioni e al DVD che troverete all'interno del pacco del mulinetto, la nostra esperienza ci ha imposto di realizzare anche dei fogli aggiuntivi, proprio per aiutarvi nella realizzazione di capi esclusivi. Quindi mi rivolgo nuovamente a voi donne appassionate del lavoro ai ferri. Cosa aspettate? Telefonate a Cardano Cecilia. Ricordatevi 0321 861398 e potrete realizzare il vostro sogno, il mulinetto di Cardano Cecilia. Ve lo spediremo gratuitamente, ripeto gratuitamente, senza alcuna spesa aggiuntiva, a casa vostra. E poi ricordatevi, chi ci conosce da oltre 40 anni ormai lo sa, Cardano Cecilia, non solo un nome, ma una garanzia per tutta una vita. Cardano Cecilia.